Andiamo da Trento Film Festival che naturalmente dai tempi della direzione Nicchetti ha ideato insieme a Vita Trentina questa iniziativa a cui si è subito aggiunto il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina che è l'autorità in materia e poi via via sono subentrati realtà come il Museo delle Scienze, realtà del volontariato come la SAT e il WWF Trentino che completano la squadra insieme poi a questa mascotte che è il Salvanelli di cui parleremo.